Sarà un'altra stretta, questo è sicuro, ma quanto forte lo scopriremo solo domani dopo il Consiglio dei Ministri, in cui il governo Draghi, dopo aver analizzato gli ultimi dati ed essersi confrontato oggi pomeriggio con le regioni, farà sapere quali misure adotterà a partire da lunedì per fronteggiare la pandemia che non arretra, complice la lentezza nelle vaccinazioni e la diffusione delle varianti, che complicano lo scenario e rendono necessari indicatori precisi per adottare provvedimenti efficaci, indice di trasmissibilità, posti occupati in terapia intensiva, numero di cittadini vaccinati. Comunque con 250 casi su 100.000 abitanti scatterà automaticamente la zona rossa, che significa chiusura di tutti gli esercizi commerciali, bar e ristoranti e il divieto di uscire da casa se non per le fatidiche comprovate esigenze. Secondo i dati dovrebbero andare in rosso Piemonte, dove l'indice RT è già a 1,41, Lombardia, Emilia-Romagna, Trento, Bolzano, Friuli-Venezia-Giulia, Marche. Ma anche in fascia arancione chiusi bar e ristoranti e divieto di uscire dal proprio comune se non per motivi di lavoro, salute e urgenza. Mentre alcune regioni in zona gialla già chiudono le scuole, pur non essendo obbligate. I tecnici mettono in guardia soprattutto dai rischi di affollamento nei fini settimana, che quindi dovrebbero essere blindati, come a Natale e a Pasqua tutti a casa, ovviamente.